Dopo una brutta caduta dalla bici da corsa avevo poca mobilità dovuta a fratture del bacino. Ho ripreso alla grande la mobilità e l'elasticità. Queste sono le parole di Maria Pia, una socia che frequenta i corsi di Reformer. Reformer è questo macchinario che si trova all'interno dello studio Personal e Small Group Atelier in Pura Vida 2.0 Fitness Boutique alla Dispoli. E io sono Bruna Bartolini, il direttore tecnico di Pura Vida 2.0. Quello che vi faccio vedere oggi è un esercizio che si esegue su questi macchinari, uno degli esercizi che ho utilizzato per migliorare la mobilità articolare e migliorare la tonicità muscolare di Maria Pia. Questo è un esercizio che piace molto ai soci in quanto a corpo libero sarebbe impossibile eseguirlo correttamente, mentre con l'aiuto di questi cavi si riesce a raggiungere una ottima elasticità muscolare e una buona apertura delle gambe. Questo libera anche e schiena da tante tensioni e contratture. Cosa aggiungere? Vi aspettiamo in atelier.